bella a tutti ragazzi bentornati abbiamo lasciato indietro le disavventure di mercoledò e ripartiamo nuovamente a giocare un pochino a super mario maker 2 oddio senza farlo a posto ho scelto un mondo a caso non era mia intenzione ma andiamo a tirare qualche madonna in questo mondo dai diamo un po ottimo ok e scriverò bene ho capito era livello di introduzione non prometto il bello perché una cagata immonda sta cosa io spero che adesso il livello di sfida cominci ad alzarsi immagino la cio caldo ur poli ok vediamo no abbiate pazienza ma è ma vede rotto che c'è hai fatto un grandissimo mondo di merda possiamo dirlo sì cioè non è che mi fai dei livelli così a minchia scusami è se te lo dico ma di pazienza il tuo mondo non lo voglio manco vedere manco per sbaglio 10 livelli un giapponese un giapponesaccio che mi ha fatto un giapponesaccio non è dispregiativo eh per me un giapponesaccio con il proprio così ed è capito no? ok voglio vedere di cosa sei stato capace 1 1 hai rifatto primo mondo? la cosa più classica del mondo a cominciare con il primo mondo non mi dire che hai rifatto hai rifatto primo mondo e basta proprio l'hai rifatto spiaccicato uguale l'hai rifatto veramente uguale l'hai rifatto no dai fare uguale l'hai fatto stiamo scherzando farò indietro per vedere se effettivamente uguale paraculo nella parte centrale ha lasciato tutto vuoto non c'aveva voglia di fancazzo questo ha detto tanto figura di sé se qualche stronzo torna indietro più di tanto che paraculo infame oh vabbè l'abbiamo sgamato zio te lo volevo dire ma ti abbiamo proprio sgamato vabbè 8 secondi vai però tu non l'hai sgamato che ci hai messo 8 secondi eh che paraculone questo qua oh aspetta io lo faccio un po' uguale all'inizio un po' uguale alla fine poi ci metto il tubo e chi se ne frega invece no scontro col boss va bene ah proprio così mi sono cagato addosso ho sentito quel e mi sono cagato addosso oh no non mi sono cagato addosso ma sono stato scemo io va bene scherzavo ok ce l'abbiamo fatta quasi può andare giù sì e dove mi porterai ma veramente oh avevo una possibilità di ficcarmi in mezzo e l'ho presa subito io posso andare avanti vedere se c'è qualcosa qua ho preso questo quasi che me lo tengo sapete mi piace questo qua sì 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 vado avanti con questo spacco tutti adesso vai 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 non mi frega niente vi pesto tutti quanti con sto cosmo il boss esattamente no dov'è poi questo non è questo è questo qua il boss veramente sto cesso qua no maledetto goomba infame e l'avevo pure lasciato vivo pezzo di merda si vabbè diventa invisibile qua va a cagare toh mori eri tu il boss che devo uccidere o ce ne ce ne in altro no ho tesoriato qua dottore indietro fatemi capire ok va bene c'è un tubo andiamo oddio 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 ma che livello schiumoso che mi piace ragazzi e un po' di vita l'abbiamo preso ragazzi va a cagare guardate adesso andrà a morire come un credino così vabbè però ce l'abbiamo fatto mi è piaciuto questo livello qua era fatto tutto strano dai bello sono contento bravo bravo kukiru adesso vediamo cosa ci nascondi di nuovo competizione vediamo un po' qua si fa go questo è un run una corsa così impazzito questo impazzito sì che è elico da far paura sto coso oddio 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 che devo fa e adesso ragazzi che devo fare ah ma che pirla non ho visto non ho visto non riesco più a passare ce l'ho fatta prima ok ma ho visto che c'era il tubo qua sotto ma bacca gare ok guarda che casino che ha fatto questo pazzito ma che schiuma ma che fuori di testa questo polle bellissimo sto livello che delico da far paura non ho dovuto tirare neanche una bestemmia mi è piaciuto un sacco bravo 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 jabu devo giocare per forza questi no potevo andare prendi le palle per vincere e una dai vediamo due faccia di culo ok ci hai creduto eh questa qua sembra sempre che deve fot termi che mi ha fottuto eh mi dispiace Mario Mario mi ho fatta capita eh purtroppo capita ok qua ah lì ha scelto questo mondo così a caso potrebbe mettere in corso della vita laggiù per una show spazio vuoto no raggiungi il traguardo dopo aver eliminato quanto mi sta sulle palle quel cupo dopo aver eliminato Roy ma che sfiga no Yoshi ho detto Yoshi ti salvo io invece se la siamo via dal culo tutti e due bella cosa che abbiamo fatto Yoshi se la siamo via dal culo in due devo fare attenzione perché questo è ghiaccio arriva no il coso no sto coso qua che se gira così mortacci tua e te pareva se non moriva se moriva se morivano tutti ok sono un cretino perché il il passo il passo di Yoshi l'hanno inserito solo da Mario Mario World 2 e quindi Yoshi non può svolazzare più del dovuto colpa mia ho sbagliato e l'ho saltato ed è la seconda volta che ci prova a farlo c'era la seconda volta che provavo a farlo ma non ce la potevo fare pure imperterrito ho continuato a tenere premuto il salto per cercare di di fare quello che dovevo fare ma che non potevo fare quindi prendiamo la rincorsa e saltiamo come si deve ok ma sei duro ma ti posso ammazzare così mazza quanto sei quanto sei messo male dai vabbè non bariamo dai non bariamo non bariamo pezzo di merda Yoshi è morto però e chi se ne frega tanto sono come i conigli e si riproducono come i conigli io vabbè affanculo che a momenti riesco pure a cadere ragazzi pensate un po' io oh ma quanti roi ci sono ma quello non era il culo di prima ma è morto da solo veramente che culo quella fiammata lì proprio non me l'ero manco io la chiave ce l'ho adesso però prima quella ah si ce l'ho la data roi probabil bene abbiamo fatto quello dovevamo fare possiamo arrivare alla fine mi dici che posso arrivarci mamma e ce l'abbiamo fatta anche questa volta grande mario grande grande mario solo che avvicino un po' il microfono che avevo messo in culonia nuovo record signori mi sembra strano che abbia fatto il record qua dentro va bene non l'avrà giocato nessuno sto livello facciamo la nave del boss dai forza forza mortacci mia mortacci che a momenti mi ha appiglione il sedere proprio all'inizio oh che cazzo succede no questo qua è folle questo è pazzo questo è pazzo mi mette tutte queste cose così che non si capisce una fava eh fatto così vabbè non ho fatto il record però ti dirò amico mio hai fatto un mondo un po' un po' sclerotico ma carino oddio cominciamo con un castello veramente proviamolo ma sarà un castello soprattutto no cose a caso messe a caso papà 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 questo è tutto un entrare uscire dai tubi lo trova al tubo rosso i mortacci tua siamo arrivati è finita è finita è finita vediamo un po' se faccio il record qua non è finita non è finita beh quasi però dai per forza l'abbiamo fatta ancora quanti tubi si capisce più un tubo qua dentro ah thanks ah beh se posso permettermi un livello un po' de merda però nella tua testa ci sarà un funzionerà così che ti devo dire io mi aspettavo col castellino lì mi aspettavo di vedere un castello nel frattempo sono un sacco di minigiochi di cui non ce ne può fregare una ceppa e andiamo avanti andiamo avanti con non capisco non capisco quei geroglifici il cangi lì che cazzo mamma mia che culo però intanto una botta di culo però ci va non posso più scendere di qua non mi ricordavo sta cosa va a cagare qua posso andare di qua posso prendere questo ci sono solo monete facciamo così che le prendiamo più velocemente poi torniamo indietro e andiamo su nel tubo qua vediamo un po' cosa c'è bonus monete bonus a caso abbiamo anche fatto fuori la piantina si poteva entrare qua dentro e dove si va siamo arrivati alla fine però mi hai fatto arrivare alla fine così va bene ma sei rimasto fregato rimasto in mezzo alle due molle che sfigato Mario mazza 12 secondi altri tre livelli e completiamo il mondo ragazzi un mondo abbastanza semplice wow ne erano capitati pochi di mondi semplici così diciamo giraverità ma proprio pochi oddio che è sta roba meno male pensavo io non poter ah è rifatto il primo mondo di nuovo ah vabbè allora se giochiamo con link la cosa mi piace un sacco spacco tutti tiro bombe come che ah ok ok mi ricordavo più le frecce mamma mia quanto vi spacco tutti quanti vi spacco mamma mia link salti ventordici metri in alto è incredibile vabbè tu fai così tu fai così qua qua si può andare così bene perfetto no parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaculom mi dai qualche altro power up che questo non mi è durato un cazzo per favore mi dai niente non mi dai vabbè bello che è quello lì No quello lì è il dragon Il faccia di merda è quello lì Bastardo infame Non posso più usarlo Vaffanculo No Vabbè almeno l'abbiamo finita Dai Yahoo Altro livello completato Per noi ragazzi Messo quasi Un minuto in più di quello che ci ha messo Guarda lì Pazienza Livello nell'acqua Oppure i livelli sono buttati a caso Come abbiamo visto fino adesso Dicevo un livello un po' della La minchia sarà sicuramente Raggiungi il traguardo senza subire danni L'ho detto quasi affranto Tutto lì? Veramente? Ah però Devo continuare brutto Corri Mario Se fa mettere i piedi in testa a questi Oh rischio Ok 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 Ci sto più a capi in cazzo Volevo andare là sopra eh Ma poi non ce l'ho più fatta Ovviamente il record Non l'ho fatto ma neanche per sbaglio Vabbè immaginavo Ho perso troppo tempo Castello ragazzi Castello Sarà un castello? La domanda è sempre quella Ovviamente no Oh ok Mario scorreggione abbiamo Eh siamo morti ragazzi Allora mi son fatto prendere L'agitazione perché pensavo che Quella Ma poi se io vado di qua no per dire L'ho veramente fregato così? Ho fregato così veramente? Ok no Vabbè dai Immaginavo che non si facesse fregare In questo modo eh Però ho voluto provare Ho voluto provare per Per sicurezza Più che per sicurezza Per curiosità Beh allora va benissimo Mi piace questa cosa perché Io credevo assolutamente Che quel La statica di ghiaccio mi avrebbe Cioè sarebbe caduta Mi avrebbe fatto il culo Invece no No Mamma mia Mamma mia Mario Oh Pezzo di merda Non me lo sarei aspettato Anche ragazzi Me la sto veramente Me la sto veramente rischiando Bruttissima eh Adesso aspettiamo un attimo Con calma Vediamo Ok con calma Con calma Ce la facciamo No Mario non fa cagate Che siamo alla fine Ce l'ho fatta Ma quanto è lungo Sto livello Mortacci 2 Vaffanculo Ce l'ho fatta Su cade tutti quanti Sto Boh qua è partito Rischiumato un attimo Così Così Di tanto Sto giapponese Partiva così A caso Vaffanculo Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo Assolutamente Fatta Quando ho completato Di questo ne vado Molto fiero Ragazzi Sono proprio contento Di aver completato Il mondo Ok Maglia Mario con la capa Ha completato Tre super mondi Ricompensa Ragazzi Allora Facciamo questa Quelle facciamo Questo qua Cinque livelli Vai Facile Anzi no Cinque livelli Magari me lo tengo Per ultimo Se Questo ha fatto Un livello solo Sarà un livello De merda Andiamo a vedere Un livello Ma il cazzo Di mondo è Ho 69 Vide Che strano Vabbè Proviamoci Jumps Questo livello Mi tirerà Scemo Spero Veramente Di no Quanto devi essere Infame Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sai di fregare me Io sono nato Con pane Mario Ma che cazzo Ne sai tu Mettermi le Minchia 6 secondi Quello lì E' nato Con Mario E pane Porca puttana Minchia Abbiamo fatto Lo sforzo La principessa Ce la faccia Stupita Ma per dire Ma che cazzo Ha fatto Questo Io devo fare Una torta Per aver fatto Tu salti De merda Ne sei dato Io la torta Va bene Andiamo E abbiamo Completato Un altro Super mondo La maglia di Mario Scogliato Lo volante Che non C'è cosa Che mi fa Più cagare Ok dai Proviamo Questo qua 9 livelli E poi ci facciamo Quello da 5 Poi io me ne andrei Anche a dormire Quasi quasi Ma così Per dire Nuova partita Xeno Ciu Ma la prossima volta Usare lettere normali Perché si capisce In cazzo Del nome Guy Scusa se te lo dico Ma Uno te lo dovrà Aburtire Non te l'ho detto Nella tua lingua Però Hard So hard Un giro di traguardo Senza toccare terra Dopo un salto Quindi devo cercare Di non saltar Non c'è la gravità Non c'è Signori Abbiamo trovato Il livello Che mi tirerà Scemo Questa se Le palle Di cannone Vincirò Sto livello Che ci avrò Due Tanti Ok forse Potrei farcela Se continua Così Potrei farcela Sì Sì No Era molto meglio Di quello che pensavo Non era così malvagio Questo livello Alla fine Ma meno male Che ha messo la Ha tolto la gravità Perché sennò Non ce l'avrei fatta Ma sono sicuro Che non ce l'avrei fatta Dai Vediamo un po' Ma Io mi sono perso Un po' Se qualcuno Magari volesse commentare Su youtube Qua sopra Che mi spiega Che cazzo Sono quei cose Quelle creature nere Che viaggiano Attorno ai livelli Mi fa un piacere Perché Non me lo ricordo più E andiamo Un bel viaggetto In macchina Ce lo facciamo Oh Però Vabbè Affanculo Vai Rotta subito La macchina Solo funghi E' vero Ci sono solo funghi Che tristezza Ragazzi Solo funghi Va bene Vabbè Vabbè Affanculo Ma che strano Perché non è andato giù Perché mi veniva Mi veniva Da dietro Mi veniva Da dietro Oh ma va a cagare Della macchina Ah Ti ho pure schiantato Sto merda Ti sta bene Ti sta No perché sono andato Qua dentro Mi piace Sare finito qua Eh Eh Ti pareva Dove sono andato Dove sono andato Mario gatto Mi fai cagare Però Quando fai ste cose Con calma Con calma Oh Entra però Ok Ti avevamo fatta Ti avevamo fatta Vabbè Va a cagare Allora Dicevamo Qua cosa dobbiamo fare Va vai Va vai Va Miau Ottimo 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 Ma va a cagare No Salta Macchinina De merda Ci manca pure Una ruota Gli manca Vabbè Non importa Dai Saltiamo di qua Andiamo di qua Oh E cagare Bowser infame Ma ci mancava Solo Bowser Gatto Baffanculo Volevano fregarmi A me Volevano fregarmi Ho messo di nuovo Un minuto in più Ma non mi importa Dei record Ok dai Siamo carichi ragazzi Siamo carichi Carichi Porca puttana Ah Oppi Cos'è Tiz No vediamo Poteva andare anche peggio eh Allora Tu che mi hai ucciso Faccia di merda Fai una brutta fine Proprio subito così Io devo andare giù di lì Madosca che culo E mi sembra che siano fatti Quasi come No Vabbè non importa Dai ce la faremo Ce la faremo Ce la faremo L'abbiamo fatto Era semplicissimo Era Mi faccio sempre Prendere male Da sti livelli E poi sono Una cagata immonda Nove livelli così Ce lo succhiamo come niente Sto mando Paura per quello Da cinque livelli Quello mi fa un po' paura Paura che quello Me la farà vedere lunga Raggiungi il traguardo Dopo aver raccolto Almeno eh Ottanta monete Voi loro non mi danno monete Ok Vabbè se mi dai questo qua Se mi dai sto potere qua Già la cosa mi piace Vabbè hai sparso monete Monete segrete ovunque Immagino Questa è una cosa Che mi fa veramente piacere Wey Ok Andiamo Perfetto Andiamo giù di qua No mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Ok Siamo a 50 Qua dove si va Ok Mo' io se vado giù No probabilmente no Nuovo di Yoshi Davvero c'è uno Yoshi Non posso prenderlo Qua sotto però Che cazzo me lo metti a fare lì Dai 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 Yoshi dai Devo di piare Spinto Devo di piare Ok Qua Qua Yoshi lo fa Qua Yoshi fa il suo Dai 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 Ce l'abbiamo fatta Siamo a 70 ragazzi Ci mancano 10 monete Vai Goomba Al contrario Sono proprio brutti Sti Goomba Ma chi ha detto Di farli così Mortacci loro Ammazza Se siete brutti Pi Chi di pirla che sono Vedrai No Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non mi interessa Non mi interessa Ce l'ho fatta Ah Tu ne hai messe Proprio tante Di monete Allora Io pensavo Che ce ne fossero Giuste giuste Un altro livello Un'altra cagata Di livello Cioè nel senso Che comunque Era molto semplice Ho messo Sempre un minuto E fottia In più Degli altri Ma non mi importa Figuracce di merda Che sto facendo Castello Qui c'è anche Il secondo mondo C'erano due mondi Qua se non sbaglio Porto ma bello Un giocatore Porto ma bello Adesso te lo dico Sarà già Bo usarli Secondo me Oh Oh Non ti cagare Tutti quanti Vai Toto Via Zitti tutti Va Vanculo pure Dai Livello di sfida Altissimo Ragazzi Vedevo l'ora Di venire Dalla montagna Per giocare A sti Sti giochi A questi livelli Molto semplici Secondo mondo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Tre Quattro livelli Dobbiamo fare Eh sì Quattro livelli Ancora Dai Possiamo farcela Possiamo portarla A casa Tranquillamente Platforming in the dark Mucca mamma Tutto buio Sarà Porca Cazzo Ma io Sapevo che Io sapevo che Che l'inculata Me la trovavo Prima o poi Io Adesso Giro Lo schermo Della tv Giro Quale Fottuto Motivo Ti ha portato A creare Sta Merda Di livello Ho 12 vite Non ce la farò Mai nella vita A farlo Vaffanculo Ma aspettiamo Ma aspettiamo Vaffanculo Posso dirlo? Ho detto No veramente Noo Pirla che sono Sono stato pure Fermo lì A guardarla Che cazzo Si sposta Sto coso Ma state Fermo No Ma è la trave Che andava A farsi giri Per i cazzi Suoi Ma che è Sabato Ma vaffanculo Oh Adesso si Che mi riconosco A giocare A Mario Maker Adesso si Che ho trovato Il livello Merda Vaffanculo Va bene così Mamma mia Il Goomba Infame Dai Dai No Ce l'ho fatta Cazzo Incredibile Non avrei mai detto Che ce l'avrei fatta Fare sto livello Lo faceva ancora Un metro più lungo Scleravo L'ho messo pure Bello così Non so perché Io l'ho fatto Però va bene Cosa perché Ero contento Di essere uscito Da quel tunnel Infinito di merda Ma possiamo andare A fare direttamente L'ultimo Cioè l'ultimo Livello Saltandone uno More performing In the dark Ma allora Sei stronzo Ma vai Affanculo A te I fantasmini De merda Ora I fantasmini Formaggini Qua Allora Però Ragazzi Diciamoci Oh cazzo Dove devo andare Come cazzo Ci arrivo Ehi ok ok Va bene Va bene Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio E anche Questo è andato A far Il mondo Di sottosopra Di Stranger Things Mortacci Sua Però era carino Dai mi piace Oddio Che bordello Che è successo Ok Facciamo ancora Questi Questo livello Qua E basta Mi sa O block party E poi Non so se dietro Si è visto Cosa è successo Oddio Che è No Che cazzo è Non lo rifare Mai più Eh Faccia di culo Ok Oddio Oddio Che bordello Ok Va bene Non ho capito Tanto il senso Di questo livello In realtà Ma va bene Ok Oddio Ma poi Ma che è Sto power up Ok va bene Lo facciamo andare bene Sto power up Finito Pure No Pure Mario Gatto Ma Un mezzo Stato un'orge Di costumi Buttati Lì a caso Eh Assorta Miau Ce l'abbiamo fatta Anche a fare questo Ok Possiamo andare a fare L'ultimo Livello Allora Allora Alla fine ragazzi Questo mondo qua Non mi è neanche dispiaciuto Tanto Sapete Questi due mondi qua Boss battle in the dark Ecco Moser ha preso bene A fare i livelli Del sottosopra Di sto No Non è sottosopra Ah Vabbè Ah ok Non si poteva fare Qua Con un cretino Quanto cazzo alto Sto livello Ma che Ma sei scemo Avevo appena detto Che Non mi erano dispiaciuti I tuoi livelli Porca Di quella Miseria Accialadra Ok E fin qua Ci siamo E fin qua Mamma mia Che buccio di culo C'è la rete al boss Veramente La fine Era poi Così Semplice Papapapam Pamparapam Pamparapapam Papapapam Papapapam Mi sono bloccato Qua mi sono bloccato Che culo Eeeh E vai Un altro mondo Finito E che Questo è andato Ragazzi Io non ci credo No Volevo mettergli il bello Se lo meritava Però Vabbè Oh se ne frega No Ho sbagliato Va bene Possiamo andare avanti Possiamo levarcela dalle palle Sta cosa Mondo completato Basta Abbiamo finito Eeeh Dai Su Su Forza Forza Allora Facciamoci ancora Questo Questo mondo qua Che fondamentalmente Ha cinque livelli Alejandro E' spagnolo Sarà Alejandro Alejandro Vediamo un po' Che cagata Hai fatto Pure hai fatto una cosa bella Non Non lo voglio dire Mi permetterei Eccolo lì Eccolo lì Lo sapevo Porco 2 Ci posso Saltare Così Ok Non posso Saltare Così Lì Eeeh Allora Mi sono Ho perso Qualche Pezzo Come Cazzo Faccio Ad Arrivare Ma Come Come Cazzo Ok Ok Forza Ce la Faccio Ma Io lo sapevo Mi faceva Troppo gola Un mondo Con cinque livelli Infami Era Era palese Che avrei trovato Un Qualcosa Mamma mia Che culo Che avrei trovato Qualcosa Che mi avrebbe Fatto schiumare No Non penso Che sia In realtà Così Difficile Questo Non è Difficile E chi Comanda Mario Che è un Coglione Quello Si Mamma mia Che culo Ok Perché Perché ho Perché ho Fatto La 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 Piroetta Della Minchia Dovevo fare La Piroetta Che palle Che palle Ragazzi Eh no Mamma mia Devo saltare Proprio Nel momento Cioè Proprio Nel punto giusto Saltare Io me ne Ricordo Quei livelli Perché li ho Fatti Anch'io Dei livelli Infami Così Ok Dovrei Esserci Ok Quanto potrei Mai essere Infame Fa sta Cosa Mortacci 2 Ma farlo Più Difficile Sto Livello Brutta 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 Testa Di Minchia Sembrava Che Non Avessi Ancora Trovato Il Va Panculo Va Che non Avessi Trovato Ancora Il Mio Mondo Preferito Di Di oggi Ok 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 Mortacci 2 perchè non mi hai messo un checkpoint qua brutto infame perchè mettimi un cazzo di giro spiene dovresti piantare nel culo te quante tutte quelle che ci sono in questo livello dovresti ficcarti nel culo guarda te zio devo faticare adesso a posto livello volevo andare a dormire volevo andare io mamma mia che culo quello è stato proprio culo è stato va bene ma perchè 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 non vado così sono morto nello stesso punto di prima concentrazione concentrazione ci vuole ogni tanto un po' di concentrazione perchè se no schiumo troppo ok 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 ma sarò coglione facciamo sto mondo c'è solo 5 livelli è facile facile che mi ha impigliato nel culo allora si che è facile che due cocomeri grossi che ho io di tutto questo devo ancora fare geno mortacci mia l'ho sbagliata completamente l'ho sbagliata tempo qua il gatto mi ha fatto un casino mi ha fatto mortaggi suo pure lui porco zio porco e va bene fin qui ce la facciamo abbastanza semplicemente no abbastanza facile anche qua è abbastanza facile ok dai però non posso cominciare a pregare io nella live precedente ho giocato al den ring e non mi sono cosa cazzo sto facendo sono distratto mi sono e non ho fatto la fatica che sto facendo qua con questo solo fottuto livello parapapapaparam quanto mi stai sulle palle leandro non lo sai neanche tu però fidati che mi stai molto sui cocomeri che cosa cazzo or cazzozza mi sono di nuovo salato per il rotto dalla cuffia lì dai su però c'è non faccia non mi faccia perder tempo non mi faccia non ho mai che hai messo un checkpoint eh vaffanculo va checkpoint mi ha messo non poteva finire il livello no ragazzo fai? no lo stoppo qua sto mondo non ce la faccio non ce la posso fare mi stanno venendo le crampie alle dita e le bestemmie al cervello ma come cazzo fai? come? merda me ne torno indietro me ne torno vaffanculo dai come cazzo si fa a fare un livello così? merdoso oh no non ce la fai ma vaffanculo eh game over eh te credo game over un livello di merda così come fai ad andare avanti? primo livello tra l'altro bene abbiamo proprio scelto il mondo giusto da tenere per ultimo abbaffanculo aleandro vattela bian dal culo va bene e dopo questo fantastico mondo di aleandro che può veramente andare a prendere sarà dove dico io ci salutiamo e ci vediamo prossimamente magari con qualche altro qualche altro nuovo mondo su super mario maker ed eventualmente continueremo le disavventure di mercoledì quindi detto questo buona serata ciao a tutti e grazie alla prossima ciao ciao a tutti